bene questo che vedete è il disegno con cui abbiamo partecipato al contest di nico nico che era l'ide memorial day special del 2013 e oggi è arrivato il premio anche se di partecipazione speditoci dallo staff di nico nico eccolo qua i the speakers per sentire la musica ovviamente questa la sua scatolina molto carina tutto scritto in giapponese targata del 13esimo memorial il nostro pink spider la chitarra una disegnata le istruzioni in giapponese ma per fortuna il disegno dice tutto ecco invece il foglio che c'è a testa la vincita di questo premio di partecipazione il memoriale di the rocket dive 2013 14 per i vent'anni di carriera solista ecco nico nico i the memorial day special 2013 che era il numero del concorso ecco tutto quello che c'è scritto praticamente congratulazioni perché questa volta avete vinto questo premio per il concorso che è stato indetto dal 22 marzo al 28 aprile 2013 per il we love the special contest per il memoriale del 2013 e vi mandiamo il vostro premio da nico nico di oga i the speakers ha attaccato molto di vita al wolfman e ovviamente sta mandando ide molto carina la grafica, molto visitata di ide piccolino portatile grandezza di mano panoramica panoramica anche se non abbiamo vinto i nostri i primi premi che potevano esserci questo va bene lo stesso perché ovviamente sarebbe costato troppo il premio da sole che abbiamo partecipato e sempre ricordate che si è preparato ide ah si che l'avevamo abbiamo vinto questo perché abbiamo partecipato sia con il disegno che con il video del making off del suddetto disegno quanto pare ha risposto apprezzamento dalla giuria e questo si può dire tutto finalmente vediamo la richiesta la notizia della vincita era arrivata il 9 di maggio oggi che siamo il 20 aspetta 24 è arrivato con il corriere pacco proveniente al Giappone va bene questo è tutto ciao ciao ciao